La storia è cominciata così. Un amico incontrato per strada mi ha portato in una casa e lì c'era gente che aveva piacere di fare delle cose con me e abbiamo fatto tante cose bellissime. Poi a un certo punto l'amico se n'è andato via. Io mi sono accorto che avevo fatto solo dei divani, tanti divani, bellissimi divani. Allora ho pensato di mettere nel divano una piccola cosa, un gioiello, una piccola cosa che raccontasse la storia. E c'era già, l'avevo fatta l'anno prima, era il cuscino intelligente. Allora l'ho preso e l'ho messo in un divano. e dice ma il moto è pieno di divani. Però con il cuscino intelligente è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. E così l'hanno chiamato a subito. E così l'hanno chiamato a subito. E così l'hanno chiamato a subito.